si corrisponde non ho tutti i dettagli che ha riferito lei sui nomi vari io ricevetti questa telefonata quella sera nella quale mi diceva che c'era stato questo assalto in questa casa di una situazione di una niente portate via dei soggetti hanno messo le nostre con mancava uno dei che sta succedendo ragazzi mi ha scritto vieni qui mi ha scritto mandia state dentro potrebbero abbatterci c'è che cazzo sta succedendo fuori anche dove sei la divisa qui con i caschi il problema è che ragazzi non arriviamo oltre al fatto che loro hanno coppola stia fuori a sorvegliare ragazzi ragazzi l'unica soluzione che loro vorranno entrare fate e dobbiamo aspettare dentro ragazzi è l'unico modo se non abbiamo citato quando stanno per entrare all'interno del tribunale dobbiamo lasciarli purtroppo dobbiamo lasciarli il campo e farli atterrare con gli eagol e affrontarli sulla terra ma cosa sta succedendo la forma ma signori cosa volete siamo dentro al sicuro ragazzi coppola assicurati che nessuno entri qua dentro li dobbiamo far atterrare ragazzi tranquilli fuori c'è coppola che sta controllando non entrerà nessuno siamo sicuri con coppola se arriva un missile